Il 2023 è stato un anno di grandi trionfi per Van Danara, ma allo stesso tempo, uno dei periodi più impegnativi della sua vita. La moglie di Mauro Icardi ha affrontato una malattia che ha sconvolto la sua esistenza, la leucemia mieloide cronica. Con coraggio, ha condiviso la sua diagnosi sui social, raccontando dell'abbraccio commovente delle infermiere durante l'estate. Prima di continuare con questo video, ci teniamo a chiedere il vostro supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille. In un'intervista, Van Danara ha rivelato il caos emotivo che ha seguito la scoperta della sua malattia, lasciando Mauro Icardi tentato di abbandonare il calcio. La sua storia è stata permeata da momenti difficili, come il ritorno da Ibiza di Zaira e il crollo emotivo di sua madre. Durante il suo percorso, sono circolate voci e pettegolezzi sulla sua malattia, ma Van Danara ha affrontato con forza le sfide. Ha confessato di aver scoperto della leucemia guardando la tv mentre era ricoverata, poiché nessuno ne comunicava nulla. Ora, mesi dopo la conferma della malattia, Van Danara ha pubblicato su Instagram il referto medico, che attesta la sua risposta positiva al trattamento. Nonostante le avversità, Van Danara ha trovato la forza di trarre gioia dai successi professionali, debuttando come conduttrice di Masterchef e ottenendo premi per la sua azienda di cosmetici. Il 2023 ha dimostrato la sua resilienza e la capacità di affrontare ogni sfida. Fateci sapere cosa ne pensate con un commento e inoltre vi ricordiamo un piccolo supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille.